Buongiorno, buongiorno ascoltatori di YouTube. Oggi sono in una zona nuova, tra l'altro in questo momento sono sotto a tre bellissimi alberi di castagne. Tra una settimana sono pronti questi alberi, ma sapete dove sono? Ve lo dico dopo, incominciate a guardare gli alberi. Sono in altitudine di 500 metri, qua c'è una freccia indicativa denominata così San Fedelino, tempietto romanico del secolo X. Avete già intuito presso poco dove sono? Dove sono. Ma il mio itinerario è differente degli altri giorni, perché grazie ad un signore che è venuto alla stazione di Colico, un mio amico prendermi in macchina, mi ha accompagnato in questo luogo in automobile, eccezionale, qua bellissimo. Tra poco c'è una vista, a mozzafiato si può dire. Prima guardo il contatto naturalistico di queste belle piante di castagne, poi la vista qua, ecco qua. Ho di fronte a me, Vercea, il lago di Novate Mezzola, eccolo, di fronte a me, lo guardo dall'alto, bacio mio occhio visivo verso il basso, come per dire, io appartengo a tutta questa parte lacustre, dove il mio occhio fa villa in una bellezza unica, vedere quelle belle montagne, si può dire, della Val Chiavenna. Là di fronte ho il paese di Novate Mezzola, qui Vercea, ma non vi ho ancora detto dove io sono tuttora in questo momento. Ebbene, ebbene, sono ad un'altitudine di 500 metri, dove qui prevede in me un bel senso naturalistico, bellissimo, questo lago di Novate Mezzola. Ecco, mi accosto un po' più là, là c'è Pian di Spagna. Praticamente, ho superato la stazione di Dubino, mi trovo a Val Chiavenna, a guardare il paese dove io sono tuttora, e qui c'è il sentiero che va al tempietto di San Fegalino. Questo tempietto si può raggiungerlo in due modi, ve lo dico subito. Un partente in ban, in una barca posta, guidata da certe persone, si può partire benissimo da Vercea, che arriva al tempietto. Ma che mi interessa? È questo luogo così bello. Devo ringraziare questa persona che mi ha portato qua su in auto, perché io, partendo dal Ponte del Passo, giusto, arrivare fin qua non ce l'avrei fatto, fatto in assoluta questa strada. E sapete che provincia sono qua? Solico, sono alla provincia di Como, quindi oggi non mi trovo alla provincia di Sondrio, come da dieci giorni che frequentavo quella zona, ma non mi trovo dalla provincia di Como, dalla parte di Solico, Giralario. Oh, che bello, questa strada che va giù e raggiungo il paese. Guardate che bei sentieri, ma qui non c'è nessuno. Posso gridare ad altavoce. Allora, ragazzi, gli ottobisti, oggi è stata una cosa così all'improvviso che ho cambiato itinerarie, grazie al mio senso di amicizia con tantissime persone che conosco in giro, mi danno il passaggio in automobile. Quando avevo trent'anni facevo l'autostop, ora è tutto un rapporto che io conosco con queste persone, gentilmente mi accompagnano, perché qui gli autobus ci sono e non ci sono al sabato, alla domenica. Mi sto incamminando piano piano verso il centro del paese. Ah, ve lo dico il nome adesso, adesso posso dirvelo, posso dirvelo. Al Bonico, sono sopra Dascio, sopra il lago di Dascio, che praticamente quel lago si forma col fiume Adda. Il fiume Adda entra nel lago di Como e ha una gonfiatura denominata con il nome di Lago di Dascio. Bellissimo, bellissimo questo panorama qua dove io sono adesso. Guardare il paese, poco abitato, è abitato solo da stranieri. Ecco che mi sto incamminando ancora, ancora a vedere questo luogo da esplorare. Oggi è un'escursione unica, sì, sì, ma la mia gioia è tanto da vivere, da esplorare il mio io interiore come se io stessi per esplorare il senso naturalistico, dove mi porto a conoscere la bellezza del mondo, della valle. Guardate la Valle dei Ratti, Val Codera, lì la Valle dei Ratti, giustissimo. E là il paese sopra a Vercea denominato Vico. E intanto guardate di fronte un albero di frutta. Di frutta sì, non castagne. Vedete bene, questo è il paese dove io sono arrivato. Al Bonico, la chiesa, la chiesa. Qua purtroppo non c'è un bar, non c'è niente. Non andrebbe bene per me ad abitare, perché ho bisogno anche per vivere di essere un individuo nel mare, di potersi mangiare, cibarsi ogni tanto. Però mi piace questa atmosfera così particolare, dove io sono avvolto in una solitudine, dove prende la mia personalità in questo senso, che mi piace vivere. vivere qui, qui. Un attimo di silenzio. Sono davanti alla chiesa di meditazione. Eccolo là, in fondo, in fondo. Ma che bello questa zona qua da picnic ad Al Bonico, ve l'ho detto, l'ho ripetuto la seconda volta. Guardate che belle queste case qua di una volta del passato. Qui c'è una tranquillità in assoluto. Là di fronte a me si vede il nuovo Lognio. Poi girando la curva della montagna c'è Dubino, che praticamente il comune è Dubino. Bellissima giornata oggi. Sono contento di essere qua, in questo luogo, dove ho fatto cinque chilometri in macchina. Saluti da Aldo, il girovago dei paesi più lontani dal mondo, più abbandonati, dove la solitudine prende ali per volare in un mondo immerso. In un io, dove l'io va al di sopra della realtà e conosce ciò che può far pensare agli altri di esistere e di volare in un altro mondo, dove il contatto con la natura e solo l'uomo è il cielo, è il cielo.